Follia in centro a Vicenza, spacca una bottiglia e col coccio di vetro aggredisce alcuni automobilisti. Un diciottenne marocchino con la cittadinanza italiana scatena l'inferno. Attimi di terrore al parco Fogazzaro, sono le otto e mezzo di sera quando il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, tenta una rapina. Punta una bottiglia rotta al collo di una cinquantenne, un romeno che chiede l'elemosina scappa spaventato, mentre la vittima inaspettatamente reagisce e il rapinatore fugge. Ma tenta un altro colpo, questa volta ai danni di una coppia di quarantenni. Lei è incinta e riesce a urlare, a chiamare aiuto. Il rapinatore fugge ancora, ma prima di dileguarsi aggredisce un quarantenne di Monticello Conteotto che sta salendo in auto con la madre. Lo colpisce con un fendente in faccia, gli ruba il portafogli e scappa verso Corso Fogazzaro. La polizia scatena la caccia all'uomo e sorprende il marocchino con la cittadinanza italiana in centro storico con la refurtiva ancora in mano. Lui si divincola, ma gli agenti lo bloccano e lo arrestano con l'accusa di rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e resistenza pubblico ufficiale. Un personaggio pericoloso. Vedremo quanto resterà in carcere.